Grazie Presidente e grazie al Sottosegretario. Mi riallaccio a quest'ultima considerazione sul contratto di servizio. Come detto noi ci abbiamo impiegato parecchi mesi per studiarlo, per emendarlo e ne è uscito un lavoro discreto, buono, sicuramente migliore del precedente. Il precedente è stato formalizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico dopo un anno. Ora, noi qui stiamo parlando di anticipo della concessione, RAI, stiamo parlando di rivedere il canone, però un qualcosa che è già sul tavolo del Ministero, ovvero il contratto di servizio, non ne abbiamo ancora notizia. Quindi colgo quest'occasione anche per chiedere i tempi e le modalità nelle quali ci sarà una risposta al contratto di servizio che abbiamo licenziato qui in questa Commissione. Per un anno la nostra attività qui in Commissione Vigilanza RAI è stata molto basata anche sul rinnovo della governance. Io ricordo diverse audizioni dello scorso governo dove veniva garantito il ruolo principale del Parlamento. Alla domanda, può essere anche visto dai resoconti stenografici, alla domanda chi si deve occupare del rinnovo della governance della RAI, la risposta è sempre stata il Parlamento. Il governo attenderà gli sviluppi del Parlamento e in base a questi agirà. Ora invece, da qualche giorno, anche grazie a questo ordine del giorno, viene incitato il governo a presentare entro il 31 dicembre 2014 una proposta di rinnovo, probabilmente tramite decreto, da offrirlo alla discussione parlamentare. Allora io mi chiedo, così come è stato offerto alla discussione parlamentare il decreto IRPEF, dove in pratica si sono sventute delle quote di railway per colmare una lacuna di 150 milioni, mi chiedo se avverrà la stessa cosa anche per la governance, se verrà offerto tramite il ricorso a due fiducia sia alla Camera che al Senato al contributo parlamentare a questo punto. Perché ormai quante fiducia abbiamo fatto? Siamo ai livelli di 13 fiducia, forse arriveremo presto a 14. Quindi non vorrei che l'azione del governo poi si ritenesse esclusiva del governo, fermo restando che dal nostro punto di vista auspichiamo un intervento molto più preciso e costante del Parlamento, non del governo, tant'è che io sono anche in Commissione nona della Camera, abbiamo avviato, anzi deliberato da quasi un mese, un'indagine conoscitiva, proprio sul servizio pubblico, in vista proprio di un rinnovo della governance di stampo parlamentare. Allora a questo punto mi chiedo, l'attività della Camera, e nello specifico nella Commissione di cui faccio parte, che senso ha se poi il governo deve presentare un proprio modello? Quest'indagine conoscitiva, per quale ragione è stata fatta? Veniamo poi alla scadenza della concessione, che è stata anche presentata come emendamento nel contratto di servizio, per far coincidere la fine del contratto di servizio alla fine della concessione con la RAI. Ora questa ci viene anticipata, e non capiamo francamente i motivi di questa, anzi li capiamo, i motivi di questa accelerazione, perché evidentemente si vuole fare tutto e subito, quando in realtà nel contratto di servizio che abbiamo, ripeto, licenziato qui poco fa, c'è scritto in realtà qualcosa di diverso, e anche nei discorsi che abbiamo fatto qui si propendeva per qualcosa di diverso, ma le cose cambiano. Per il canone noi aspettiamo delle soluzioni da parte del governo, perché anche su questo ne abbiamo parlato, il Presidente Fico proprio durante il contratto di servizio ha presentato un emendamento nel quale si chiedeva al governo, o anche alla RAI, di trovare delle soluzioni per recuperare in parte l'evasione del canone, in modo tale da diminuire la stessa quota del canone. Quindi diciamo un'azione propositiva per andare alla diminuzione dello stesso canone. In generale noi vorremmo, siamo molto come Movimento 5 Stelle, siamo molto interessati a partecipare a questa discussione della governance, ne abbiamo parlato diverse volte, a parole siamo francamente tutti molto bravi, come ricordato prima, a voler eliminare la politica dalle decisioni della RAI, a voler eliminare la preponderanza delle decisioni politiche, nei vertici, nel Consiglio di Amministrazione, a eliminare soprattutto i conflitti di interesse, e noi ne abbiamo sollevati anche diversi, che sono tuttora in capo al Consiglio di Amministrazione. Per cui io chiedo che venga rispettato il loro del Parlamento, venga rispettata la nostra capacità anche di formulare dei testi, perché è questo il nostro ruolo e credo che il Parlamento, composto non solo da maggioranza, ma anche da opposizione, si debba far carico nei modi che possiamo stabilire di questa riforma governance della RAI, perché probabilmente anche altri gruppi politici, compresi il Movimento 5 Stelle, potrebbe presentare una proposta di legge per rivedere la governance della RAI. Grazie.